Ciao a tutti, eccoci di nuovo anche quest'anno. L'anno scorso ci siamo lasciati così. Abbiamo capito quanto sia importante il lavoro dell'archeologo, dallo studio delle fonti agli scavi archeologici. Le rondinelle del MAP ci hanno fatto scoprire in un modo diverso di conoscere i reperti del museo. Tra indovinelli ed enigmi, con l'Escape MAP ci siamo sfilati in una gara interattiva per conoscere le ricchezze del nostro paese. È stato molto divertente. Stiamo creando un percorso che unisca il MAP al monumento che abbiamo adottato. Infatti non abbiamo sicuramente messo da parte il nostro pozzo sacro. Con la stadia, la bussola e il livello ottico, insieme all'archeologa Pina e al disegnatore Antonello, abbiamo fatto dei rilievi e raffigurato alcuni particolari. Siamo andati anche a vedere altri due siti importanti per la nostra isola. Il nuraghe Losa di Abbasanta e il pozzo sacro di Santa Cristina a Paoli Lattino, in provincia di Oristano. I nostri antenazzi nuragici erano davvero bravi. Sapete che sono una delle civiltà più importanti del militerraneo? Molti artisti hanno disegnato alcuni bronzetti e ne hanno ricostruito particolari abiti e armature. Ci abbiamo provato anche noi! Nel laboratorio giochiamo a fari nuragici. Abbiamo colorato scudi, spade e corazze. Nell'anno del centenario della scoperta del pozzo sacro, vi invitiamo a visitare Perfugas. Non poteva mancare il nostro selfie da nuragici. Vi attettiamo.